Se la reincarnazione non è vera, come si spiegano i ricordi di vite precedenti? Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Seconda Corinzi, 11 versi da 14 a 15. Se accettiamo la rivelazione biblica ammettendo che i demoni esistono e che fanno del loro meglio per diffondere le loro verità, tra virgolette, sulle realtà spirituali, perché non si dovrebbe considerare il loro possibile coinvolgimento nella produzione di prove a favore della reincarnazione, un concetto che si oppone vistosamente all'essenza del cristianesimo e al tempo stesso si adatta perfettamente ai loro scopi. Se le migliori condizioni per esprimersi si verificano proprio sotto ipnosi, quando la coscienza di sé viene abolita, perché non dovrebbero agire? Perché non dovrebbero rispondere a un pubblico invito di adempiere i loro scopi in un modo affascinante per un pubblico credulo e ignorante delle realtà spirituali? L'esperienza della possessione spiritica rappresenta un pieno o parziale controllo dell'essere umano da parte di un'entità spirituale esterna, un demone. Questo fenomeno è conosciuto alla maggior parte delle religioni e nell'occultismo. Lo spirito parassita esercita il suo controllo sul comportamento, sulle funzioni mentali e sulle emozioni della persona coinvolta, essendo capaci di produrre sensazioni e sintomi nel corpo fisico. Questa figura è ovviamente molto vicina a ciò che accade durante una seduta di regressione ipnotica. Perché allora rigettare la spiegazione della possessione spiritica e scegliere di credere ad un'evidenza di una vita precedente? Le informazioni prodotte, i ricordi di vite precedenti, corrispondono in parte alla realtà al fine di guadagnare la fiducia dell'uomo. Se queste informazioni sono conosciute dagli esseri umani, quanto più sono conosciute dai demoni? Se gli uomini sono in grado di creare degli scenari storici basandosi sulle informazioni a loro disposizione, quanto più creativi sapranno essere i demoni. Nel caso dei ricordi spontanei di vite passate da parte dei bambini, il meccanismo è simile. All'età in cui essi ricordano le loro presunte vite precedenti, in genere tra i due e i cinque anni, il loro discernimento spirituale non è ancora neppure formato, il che li rende vulnerabili a ogni manipolazione. In un precedente capitolo su questo fenomeno abbiamo visto che ci sono casi in cui la presunta reincarnazione dell'anima si sovrappone alla personalità del bambino, presentando i tipici sintomi della possessione demoniaca. In conclusione, non è possibile riconciliare il cristianesimo e la reincarnazione. Da un punto di vista di studio, come Jan Stephenson ha affermato, le cosiddette esperienze di reincarnazione rivelate fino ad oggi possono solo suggerire l'idea della reincarnazione, ma un esame attento non dimostra nulla. Da un punto di vista cristiano invece suggeriscono evidenza di possessione demoniaca e pertanto questi metodi non andrebbero mai usati.